L'ultima picconata nei confronti di Mario Chiuto è definitiva, perché ad infliggerla è Matteo Salvini, due volte nella stessa giornata, la mattina alla radio, di sera in diretta televisiva. Il leader del Carroccio dice di non volere candidati con indagini o processi a carico e chiude anche l'ultimo spiraglio lasciato aperto dagli periottimisti che speravano in un passo indietro per allargare la coalizione di centrodestra. Invece la Lega non appoggerà il sindaco di Cosenza e Salvini è convinto che il voto in Umbria e Calabria premierà le scelte fatte a via Bellerio e rivelerà il basso gradimento degli italiani nei confronti del governo giallorosso. Stai litigando anche sulla Calabria, diciamoci la verità. No, dimmi te, io voglio candidati che siano quantomeno senza processi in corso. Chiedo tanto a chiedere un caso. Però lei è uno di quelli che qua in studio ha difeso e io ero d'accordissimo con lei, la questione Siria ha detto ragazzi ma di che stiamo parlando? Non voglio addirittura parlare della Russia, ma non posso trovare in Calabria un calabrese senza problemi con la giustizia che si canti di governatore. Ne trovo 50. Ne trovo 50. Posso chiedere alla Calabria che se lo merita e me lo chiede. È indagato anche lei, ministro. Oggi in Calabria ci sono stati altri arresti. Poi per carità uno è colpevole in via definitiva. Ma ci sono tanti amministratori, tanti imprenditori, tanti agricoltori calabresi che non hanno mai avuto neanche mezzo problema con la giustizia. Possiamo scommettere su questa Calabria che guarda avanti e non sulla Calabria che guarda indietro? E lei non può scommettere sul suo alleato che si fida di questo candidato? Ma perché dobbiamo portarci dei problemi? Quelli del PD sono pieni di problemi. Lasciamogli a loro i problemi di giustizia nei tribunali. Scegliamo in Calabria, in Emilia, in Toscana, nelle Marche, in Puglia. Gente che guarda avanti, non che guarda indietro. Intanto nel PD calabrese che ha sposato la linea zingarettiana, accettando l'alleanza col Movimento 5 Stelle a Roma e non chiudendo alla possibilità di un'intesa per le regionali, cominciano ad affiorare i primi malumori. Perché dopo aver chiuso la parentesi Oliverio, finora non se ne è aperta un'alternativa discontinua. E così sono proprio i big del partito, dal deputato Antonio Viscome al presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, oltre ad altri esponenti di peso a Palazzo Campanella, a far trapelare in pazienza mista stizza per il ritardo col quale si fa partire la nuova proposta per tentare di non perdere la guida della regione. I rappresentanti di punta del PD calabrese guardano con sospetto alla possibilità di un'intesa col Movimento 5 Stelle. Del resto, se dal Nazareno continuano a credere che non vi siano altre strade e che alla fine un accordo su un candidato comune alla fine verrà comunque trovato, non passa giorno senza che dal versante opposto qualcuno non spenda parole che mettono in dubbio il compromesso. E non si tratta solo di Morra e Ferrara, o della base che si è sempre espressa in maniera fermamente contraria a un accordo col PD, ma anche di Di Maio, che da una settimana, cioè dopo aver incontrato Zingaretti, Umbria parte, continua a non dare nulla per scontato. E questo può significare solo che il Movimento 5 Stelle chiede per sé la candidatura alla presidenza dell'eventuale alleanza col PD, ma sia a Roma che alla Mesa Terme, sanno che una scelta del genere sarebbe uno smacco che i dirigenti calabresi viverebbero con sofferenza e che questo potrebbe perfino avvantaggiare la campagna acquisti di Italia Viva di Renzi. Insomma, il ristagno e l'incertezza stanno logorando i democratici calabresi che non vogliono più Oliverio e che si sentono ridimensionati dalla prospettiva di dover attendere l'esito del voto in Umbria prima di ottenere un po' di chiarezza e di conoscere, finalmente, le decisioni sulle iniziative da assumere in Calabria. Grazie a tutti.